Chi ne sente la necessità può lasciare un graffito, sì, ma virtuale. L'obiettivo dell'opera di Santa Maria del Fiore a Firenze è infatti quello di evitare le dannose scritte sui monumenti. Se proprio si vuole lasciare un ricordo, lo si può fare attraverso una app dal nome Autography, giunta all'ottavo mese di vita e che conta ben 15.484 scritte virtuali, le stesse che entrano a far parte dell'archivio storico già raccolte in un primo volume presentato oggi. Il visitatore lascia così di se stesso un segno indelebile, senza però deturpare i marmi preziosi del campanile di Giotto. I visitatori che sono andati sul campanile hanno scritto sui tablet messi a loro disposizione per evitare che scrivessero sul muro delle scale. In otto mesi soltanto sette interventi abbiamo dovuto fare per rimuovere le scritte che erano state fatte, nonostante l'invito a utilizzare i tablet per esprimere i loro concetti. Si potrebbe definire una campagna di sensibilizzazione che combatte i graffiti con gli stessi graffiti in una dimensione digitale visitabile su di un'apposita sezione del sito dell'opera. Nell'occasione si è parlato anche della conservazione del campanile di Giotto e della cupola del Brunelleschi. Previsti infatti interventi annuali di manutenzione. Il restauro del primo è durato circa 5 mesi dopo decenni di danneggiamenti atmosferici e vandalici, tra cui decine di scritte lasciate con vernici, smalti, penne a sfera, pastelli a cera, pennarelli indelebili e perfino matite per gli occhi. Tutto è stato usato pur di lasciare un segno sulle pareti. Autografi di inciviltà.